Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari, prigionieri in casa. Settimane fa vi abbiamo raccontato la storia degli inquilini della palazzina di Arca Puglia in via Candura al civico 36 da più di due mesi senza corrente e senza acqua. Da ieri un altro stabile della stessa via va al civico 17 nella stessa condizione ma le famiglie non sono rimaste in silenzio e questa mattina hanno preteso un incontro con i vertici dell'Agenzia regionale. La storia si ripete a poche centinaia di metri di distanza. Siamo ancora in via Candura nelle palazzine di Arca Puglia del San Paolo ma stavolta al civico 19. Uno stabile di 10 piani, 30 famiglie in tutto che dalle 16 e 30 di ieri nelle zone pertinenziali non ha più corrente. Il servizio è stato staccato a causa di una serie di debiti mai pagati quindi niente ascensore, niente luci e niente acqua. Un'altra storia di prigionieri in casa. Persone là con gli anni e con problemi fisici costretti a farsi anche 9 piani a piedi. Ma questa volta le famiglie che pagano regolarmente e che subiscono il destino comune deciso da chi invece fa il furbetto non rimangono in silenzio e si riversano nella sede dell'Agenzia regionale per chiedere risposte. Insieme a loro il segretario regionale del Sunia Nicola Zambetti. Siamo qui per contestare un atteggiamento dovuto ad una tacita, come si può dire, lasciandare da parte dei dirigenti Arca che non ci hanno consentito a noi di poter ricevere tutte quelle quote di morosi e di abusivi che non hanno corrisposto alle proprie quote per energia elettrica e acqua. Questa situazione che si protrae dal 2014 ad oggi nulla è stato fatto dall'Istituto. Noi stiamo adesso per 3-4 giorni che penso che le festività che staranno questi giorni qua, quindi dovremmo stare senza acqua e senza censura. Il discorso è un altro, che qua c'è gente anche malata, gente che non può stare senza acqua e neanche non può salire in casa. La gente che paga non viene rispettata, quindi noi paghiamo perché non dovremmo soffrire del servizio ed essere invece penalizzati per coloro che non lo fanno. Non possiamo stare senza l'acqua, luce, abbiamo anche le nostre esigenze perché non siamo giovani e vogliamo stare tranquilli nelle nostre case perché paghiamo. La responsabilità è del padrone di casa, se la vedesse lui, non che dovrebbe andare in casa dell'amico, dell'inquilino a dire se tu devi andare a pagare. Dall'amministratore unico di Arcapuglia, Giuseppe Zicchella, arrivano rassicurazioni. Anticiperemo, dice, come tra l'altro disposto da una legge regionale, tutte le somme, sperando che i tempi della burocrazia non costringano gli inquilini di Via Candura a settimane intere di disagi. Ma Zicchella torna, come più volte fatto in passato, sul sistema delle anticipazioni a fondo perduto, quando le morosità riguardano soggetti non legittimati a vivere in quelle palazzine. Del resto, l'interruzione di energia elettrica e acqua è una situazione che a breve potrebbe coinvolgere circa una trentina di stabili dislocati in tutto il capologo pugliese e tutti dell'agenzia regionale. Tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e luce su un'articolata organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga. La polizia di Stato nella mattinata di oggi ha bussato alla porta di tre uomini, il 51enne Davide D'Addato di Barletta, il 43enne Umberto di Benedetto di Trani e il 30enne albanese Emiliano Mustafà, indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le indagini partite nel 2017 dall'arresto di un molfettese proveniente da Durazzo, beccato al porto di Bari con 4 kg di eroina, hanno consentito di individuare un'organizzazione transnazionale che utilizzava insospettabili corrieri per trasferire droga dall'Albania all'Italia. Una volta giunta in Puglia, la droga veniva momentaneamente stoccata a Trani all'interno di alcuni box nella disponibilità di uno degli arrestati. Dopodiché il più delle volte veniva indirizzata verso un gruppo criminale dell'Andrangheta, operato in provincia di Cosenza, che acquistava eroina fornendo in cambio cocaina. I due uomini di Trani e Barletta sono stati arrestati alle prime luci dell'albero, inchiusi nel carcere di Trani, mentre il loro referente albanese arrestato a Durazzo è stato associato presso una struttura detentiva in Albania in attesa di estradizione. Da Palazzo di Città arriva una decisione importante su Via Manzoni, la pedonalizzazione della storica via del commercio. Si farà tutti i dettagli nell'intervista al sindaco di Bari, Antonio De Caro, che questa mattina si è recato sul posto anche per monitorare la situazione nella giornata di Halloween. Halloween, state monitorando la situazione? Sì, io spero sia una festa, anche se non richiama le nostre tradizioni, dovremmo festeggiare di più il 6 dicembre, che è il giorno di San Nicola, ma anche il giorno di Babbo Natale. Però va bene così, nel senso che può aiutare la comunità a stare insieme. Ci sono famiglie, commercianti che sono preoccupati perché qualcuno abusa, ma non possiamo subappaltare tutto alle forze dell'ordine. Non posso chiedere a polizia, a carabinieri, a polizia locale di distribuirsi su tutto il territorio cittadino come se ci fosse il coprifuoco. Per quelle sono le nostre competenze. La polizia locale ha messo 5 pattuglie in più oggi che gireranno e cercheranno di tenere sotto controllo la situazione. Ma per tenere sotto controllo la situazione i genitori devono dialogare con i figli, devono tenere sotto controllo i figli, devono accompagnarli durante queste passeggiate che fanno legate a dolcetto o scherzetto. Non possiamo subappaltare anche l'educazione dei nostri figli alle forze dell'ordine, altrimenti non avrebbe ragione la rete delle associazioni, delle scuole, delle parrocchie, delle famiglie che devono stare insieme. A proposito di Via Manzoni, avete maturato una decisione, in realtà un argomento di cui si parlava da tempo, sì alla pedonalizzazione quindi? Sì, avevo preso un appuntamento oggi per incontrare i commercianti di Via Manzoni, una parte, quelli del direttivo. Incontrerò tutti i commercianti nei prossimi giorni e vorrei cominciare a fare delle pedonalizzazioni sperimentali su alcune porzioni di Via Manzoni. Ho colto l'occasione stamattina anche per andare a salutare quei commercianti che stanno organizzando su Piazza Risorgimento la festa di Halloween. Quindi i tempi e soprattutto lì il più grande problema poi rimarrebbe la mancanza di parcheggi, verrebbero soppressi dei parcheggi? Sì, vengono soppressi dei parcheggi però abbiamo delle aree in più che abbiamo messo a disposizione come la manifattura di tabacchi, ci avevano chiesto di tenere aperto fino alla sera e adesso è aperto anche il pomeriggio e la sera, quindi alcuni spazi li recuperiamo. Però abbiamo la necessità secondo me di dare una spinta per il rilancio di quella strada, altrimenti non c'è una soluzione alla chiusura dei negozi che continua ad essere progressiva. È come se fosse un malato a uno che ha un male gravissimo o gli fai l'operazione, non è che risolvi il problema con la spirina facendo solo delle iniziative. Secondo me la pedonalizzazione, come è successo in altre strade cittadine come Via Giro, può permettere a quella strada di avere un rilancio importante. Il Gup del Tribunale di Bari, Francesco Agnino, ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, 30 persone fisiche e due società coinvolti nel procedimento penale sul naufragio della motonave Norman Atlantic avvenuto nel dicembre 2014 a largo delle coste albanesi a seguito di un incendio scoppiato a bordo. Nel naufragio 31 persone morirono mentre altri 64 passeggeri rimasero feriti. Gli imputati saranno processati per i reati di cooperazione colpose in naufragio, omicidio colposo e lesioni colpose plurime contestate a vario titolo, oltre che per numerose violazioni sulla sicurezza e al codice della navigazione. Il processo inizierà il 26 febbraio 2020 dinanzi alla seconda sezione del Tribunale di Bari nell'aula bunker di Bitonto. Un 42enne di Acquaviva è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di furti e truffe aggravate in danno di anziani o persone appartenenti alle fasce più deboli. Le indagini dei militari iniziate ad agosto dopo alcune denunce hanno subito fatto emergere un comune denominatore, il modus operandi del malfattore. Lo stesso infatti prima si accaparava alla fiducia dei malcapitati e subito dopo nell'approfittare della loro distrazione si appropriava di denaro o di oggetti preziosi. In una circostanza il 42enne ha perfino finto di aiutare un disabile sulla sedia a rotelle e dopo avergli fatto credere di avere un ape sul collo gli ha sfilato la collanina che indossava, intercettato e identificato dai carabinieri, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ultima giornata per i militari dell'esercito italiano impegnati nell'operazione nazionale Atlante 2019 in corso da quattro giorni a Bari a seguire le operazioni di soccorso dal campo allestito su lungomare Vittorio Veneto, la nostra Cristina Ferrigni. Un ospedale da campo tecnicamente denominato complesso sanitario campale Rolo 2 è stato allestito a Bari nell'ambito dell'esercitazione Atlante 2019 organizzata dall'esercito italiano. Quattro giorni di addestramento per testare la preparazione delle truppe di soccorso in caso di conflitti e calamità naturali. Due di scenari operativi simulati. Il primo, che ha visto il comando dei supporti logistici garantire le cure di emergenza ai militari feriti e alle popolazioni civili coinvolti nel combattimento. Il secondo, per testare la capacità dei militari di soccorrere le popolazioni colpite da uno tsunami affiancati da medici militari e civili dalla Croce Rossa italiana dalla Protezione Civile. Ad illustrare l'operazione, il generale di corpo d'armata Giuseppe Nicola Tota, il generale Giovanni Di Blasi, comandante dei supporti logistici, a margine del briefing organizzato per i giornalisti e le autorità nella giornata conclusiva dell'esercitazione nella quale è stato simulato anche il trasporto con elicottero e il ricovero di un paziente, presunto caso di ebola. La fase più complicata per noi è stato lo schieramento. Noi abbiamo la possibilità, in questo caso, in questo accampamento è schierato un ospedale da campo militare, un ospedale da campo che può sostituire in pieno tutti i servizi dell'ospedale civile di Bari. Supponiamo che lo tsunami abbia messo fuori uso molti dei servizi dell'ospedale civile, quindi i medici dell'ospedale civile di Bari possono venire a operare all'interno del nostro ospedale a campo. Questo ospedale a campo può essere schierato il nucleo principale entro 18 ore dall'attivazione. L'esercitazione è in corso un'occasione per toccare con mano la capacità e le professionalità che la Forza Armata è capace di esprimere, ha dichiarato il colonnello Gian Paolo Maddiona, vicecomandante dei supporti logistici, che ha illustrato nel dettaglio il funzionamento del complesso sanitario. E alla giornata conclusiva dell'esercitazione è presente tra le autorità anche l'assessore allo sviluppo economico Carla Palone. Sentiamo le sue dichiarazioni. Bari ospita Auriga 2019, è un'importante esercitazione dell'esercito italiano a livello nazionale. Sicuramente è un momento importante per la città. Beh sì, è un'esercitazione valida, come abbiamo assistito oggi, tra l'altro con la collaborazione della protezione civile, della Croce Rossa, quindi un modo per capire insieme in caso di emergenza come possa funzionare la macchina organizzativa. Bari è una città che accoglie sempre eventi, dal G7 alla vicina del Papa, quindi anche un campo come questo, che per noi fa un'ora e che è stata scelta proprio la città di Bari per questo, è un modo per dire siamo pronti, quindi ci esercitiamo per qualsiasi tipo di evento possa capitare nella città di Bari. L'informazione termina qui, vi ricordo che per notizie e aggiornamenti potete consultare il nostro sito internet www.telebari.it. Grazie per averci seguito, a più tardi con l'informazione di Telebari. Il meteo è offerto da Questa è una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, soprattutto al sud, in particolare sul Basso Tireno, per la presenza di una zona di bassa pressione e di una relativa perturbazione a lei associata. Controlliamo infatti la nuvolosità sull'Italia, ecco le nuvole che insisteranno appunto soprattutto nelle regioni meridionali, mentre al nord e poi piano piano anche nell'Italia centrale si farà avanti qualche temporanea schiarita. Come precipitazioni, i fenomeni più diffusi e probabili interessano le regioni del Basso Tireno, come vedete. Però non stiamo parlando di piogge continue, è stata appunto di piovaschi e acquazioni, spesso solo di breve durata. In gran parte del centro nord ha probabilità di pioggia davvero molto bassa. Quindi in definitiva ci attende un venerdì discreto nelle regioni centro-settentrionali, dove sì ci sarà qualche nuvola, ma alternata come diciamo anche ad ampie aperture. Il sud invece avrà una giornata molto più movimentata, quantomeno più grigia, con anche piogge un po' più diffuse, specie sul Tireno e temperature a quel punto in diminuzione. Con questo è tutto, per sapere poi come proseguirà questo lungo weekend ogni santi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie a tutti.